La Casa Bianca ha puntato il dito contro Elon Musk per aver promosso in modo ripugnante odio antisemita e razziale. L'ultimo caso è legato alla risposta data dal miliardario ad un utente che ha accusato gli ebrei di promuovere l'odio contro i bianchi. Musk ha infatti risposto che ciò sarebbe l'esatta verità. Qualche ora prima la Commissione europea ha annunciato la sospensione delle campagne pubblicitarie su X a causa di un allarmante aumento della disinformazione. Già alcune aziende hanno abbandonato la piattaforma per il timore che i loro annunci appaiano affiancati a contenuti controversi.